ultimo arrivo l'efvolle valeria mucciola prime sensazioni bello l'ambiente bellissimo mi sto trovando proprio bene oggi mi sono allenata dei ragazzi tutte fantastiche il mister bravo e vediamo il primo allenamento impressioni positive sì 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 positivissime descriviti un po al nostro pubblico ai nostri tifosi allora ho 19 anni ho giocato questo è il quinto anno di serie b ho giocato due anni a reggio un anno con la golem a cinque frondi un anno con la golem a palmi e quest'anno poi dopo che sono stato a santo stefano sono venuta qui ecco hai mai sentito parlare del dell'efvolle direttamente indirettamente sei venuta mai qui in palestra sì 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 ho sentito parlare soprattutto per il tifo che c'è qua sono venuta anche una volta vedermi una partita e c'era un tifo sfegatato proprio ok grazie ci risentiremo alle prossime occasioni va bene ciao ciao